Sono 10 le ordinanze di custodia cautelare in carcere effettuate nelle prime ore di questa mattina dalla squadra mobile Nissena in collaborazione alla polizia stradale di Gela. Tutti sono accusati a vario titolo di associazioni a delinquere finalizzata alla detenzione, traffico e spaccio di stupefacenti e all'alterazione delle armi giocattolo a salve che sono state rese idonee allo sparo, alla vendita delle stesse e alla cessione di armi comuni da sparo, con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare l'associazione mafiosa Cosa Nostra. Le 10 misure cautelari in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sono a carico di Salvatore Graziano Biundo, di 38 anni, già detenuto, il 38enne Massimo Castiglia, il 25enne Alberto Di Dio, Orazio Davide Faraci, inteso Davidino, già detenuto, di 24 anni, Angelo Gagliano, di 27 anni, Davide Pardo, già detenuto, di 37 anni, il 57enne Carmelo Vella, inteso Franco, Graziano Vella, già agli arresti domiciliari, di 29 anni, Vella Mahic, di 32 anni e il 28enne Rosario Vitale, inteso Dodò. Le indagini sono state avviate nel luglio del 2013, quando Roberto Di Stefano decise di collaborare con la giustizia, fornendo importanti informazioni sulle organizzazioni mafiose di Gela e su alcuni soggetti adusi a modificare armi da fornire anche alle organizzazioni mafiose e al traffico di droga. L'attività investigativa ha permesso di riscontrare che tutti gli indagati si erano associati con Davide Pardo, quest'ultimo nipote del collaboratorio di Stefano, e con Giuseppe Schembri, entrambi esponenti mafiosi dell'ala al Rinzivillo di Cosa Nostra Gelese, per i quali si è proceduto separatamente, quantomeno con riferimento all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefagenti, al fine di agevolare Cosa Nostra Gelese. Va precisato, infatti, che Davide Pardo e Giuseppe Schembri, secondo quanto emerso dalle operazioni di polizia denominate Malleus e Fabula, dove erano stati oggetto di custodia cautelare, risultavano già rilevanti esponenti di Cosa Nostra del gruppo Rinzivillo, dediti, tra l'altro, alla gestione del traffico di stupefacenti nel centro gelese. Queste ultime indagini non soltanto hanno offerto un ulteriore riscontro, ma hanno anche permesso di identificare gli altri soggetti che li aiutavano nello svolgimento delle attività criminali, ben consapevoli di offrire il loro contributo ad importanti esponenti della consorteria mafiosa. Il rifornimento dello stupefacente avveniva tramite soggetti di altre province siciliane, nello specifico Ragusa. In paese, gli esponenti della consorteria criminale hanno dato vita così allo smercio sistematico e diffuso sul mercato di gel, di cocaina e marijuana. Inoltre, l'attività tecnica ha consentito di rilevare il particolare attivismo di Carmelo Vella e dei suoi figli, Mahic e Graziano, nella gestione di un vero e proprio laboratorio utilizzato per trasformare pistole, giocattolo o assalve in vere e proprie armi idonee allo sparo che destinavano alla rivendita, in particolare a Davide Pardo e a Orazio Davide Faraci. I Vella, in particolare, acquistavano alcune parti meccaniche necessarie per modificare le armi da alcuni soggetti di Catania. Pertanto, l'operazione di oggi ha minato una vera e propria associazione criminale dedita alla commissione di più reati in materia di illecita fabbricazione, porto e detenzione di armi. Inoltre, sono state effettuate perquisizioni nell'abitazione di Carmelo e Grazia Novella dove sono state rinvenute cartucce e parti meccaniche necessarie per modificare le pistole e giocattolo come molle, canne, proprio all'interno di un laboratorio in cui venivano effettuate le modifiche delle armi.